Mi ha scritto il masseo che cazzo stai facendo Sto provando a montare la playstation 5 e non riesco, cazzo Bella Fede sono il tipo che ti è salito in barca per la foto tre anni fa Ti ricordi di me potevi seguirmi su insta Stavamo tutti qua pronti per giocare a spiderman ma anch'io C'ho avuto problemi quindi Salve Federico, volevamo informare Allora siamo in due, dai Sto cercando di settare sta cazzo di play Ma non va Eh? No, mi dissocio, cosa hai detto? No, no Mi dissocio, mi dissocio Grazie Oh, mi sta chiamando Zano Ciao Zano, come stai? Ciao Fede, come stai? Bene, bene, bene Stavo scusa perché c'ho un paio di server che però sono intasati E soprattutto Matteo Maria Perito Sì, no, ma infatti Ma perché guarda, ho creato troppi server e stavo fatto un casino Eh, vabbè, dai, tranquillo Ma, vabbè, ti ho messo in più la voce Sì, sì, anch'io, scusami Allora, io ho la mia playstation Aspetta Allora, ho attaccato la playstation Perché se l'attacco allegato Con l'HDMI in Ok Non mi va Cioè, non mi va se l'attacco allegato Quindi Eh, ce l'hai 4K allegato, sì Ehm Boh L'ho comprato da poco Ok, ok, ok Quindi credo di sì Con l'HDMI in e out non ti funziona? Non mi va Adesso l'ho attaccato allo schermo Perché mi hanno detto Guarda che forse Devi togliere un'impostazione Nella play Allora, se ne segui Te lo faccio Fai due secondi Vai, allora Aspetta che Aspetta che devo settare il mio schermo Come schermo normale In modo tale che Vai, tranquillo Vai, vai, vai Te vedo Ok, allora Ok, io Ok, ho davanti il mio schermino Adesso, ok Sono dentro Ok, mi sta facendo fare Delle cose strane Continua senza il disco Sì Low power use Optimize experience Sì, facciamo un'esperienza Spero di no No, no, no Zano, scusami No, 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 no Secondo me no Secondo me No, no, no Non si è visto, dai Secondo me no Spero di no No, mi hanno detto Mi stanno dicendo di no Stanno ridendo Aspetta, aspetta Che uno l'ha scritto Ha scritto un numero Non vorrei No, mio Dio Sono un cretino Aspetta Aspetta Siamo già finiti No, raga Dai, non chiamatelo Vi prego Dai, faccio una figura di merda Vi prego No, mi dicono che non c'è No, non si è visto Ah, dai Ti stanno trollando Allora Hai acceso la PS5 Aspetta Ok, sì, sì Aspetta un attimo Che mi stanno scrivendo Il numero No, non ce l'hanno Non ce l'hanno Il numero Ah, scusami Scusami Eccomi Eccomi Allora Eh, ma cazzo Così Eh, aspetta Non devo far vedere Il numero Ok, ti metto qua Ok, vado Ci sono Allora Sono dentro Update Eh, ma che pa No, l'update software Lo facciamo dopo Do this later Username Eh, ma che Vabbè, dai Lo faccio dopo Lo faccio dopo Confirming Confirming Continue E via Vai Ma ne vale la pena Tutto sto sbatti È bella La play nuova? Ma Spettacolare Spettacolare Però il PC Il PC è sempre meglio Vero? Sì Eh Indubbiamente è sempre meglio Chiaro Ci stanno belle esclusive Ma la play esclusive È flamorosa Tipo? Cioè, tipo Io sto giocando a Demon's Soul Adesso Bellissimo Eh, che cos'è? Io non Eh, ce l'hai presente Tipo Dark Soul Bloodborne Quei giochi Quei giochi così Sì, sì Di quella saga Sì, quelli Tipo con l'omino Che cammina Sì, quello che cammina Selezioni Il bersaglio C'ha il boss C'ha il boss fight Ok E muori in continuazione Perché è troppo difficile Ok Bello No, io gioco solo NBA Sono un pro player Lo so Lo sai? Quello sulla 5 Lo sai che Mi sa che è bello È bello E io sono Lo sai che sono nella top 10 Dei Dei pro player Eh? Nella modalità che giochi Tipo Qualcun è? Che si chiama? Allora Top 10 Con la squadra Top 20 Da solo Vabbè ma sei un mostro Sei Sì, grazie Ma che squadra hai? C'hai tipo C'avrai tutte iPhone Sì, sì C'ho tutti gli omini forti Immaginavo Come nessun figlio Fa la stessa cosa Allora Io sono dentro adesso Vai Allora Vai sul sistema Se puoi Dalle impostazioni Che sono Se tieni premuto Il tasto Della play No? Al centro Tieni premuto proprio Sì Vedi accanto C'è proprio la Vabbè La rotellina Delle impostazioni Vai su impostazioni Eh ma io vedo la rotellina Ma non mi fa andare sopra Come ci vado? Non ti ci vado? Ah no Sì sì Ci sono Setting Ecco 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 Perfetto Vai su sistema System sarà Sì Sì Aspetta che mi cambio la lingua Eh Già che ci sono Vai 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 Italiano Perfetto Ok Sono in sistema Sistema HDMI Abilita Collegamento No L'Hdcp Lo disaffini Ah ok E infatti mi si è spenta adesso E infatti Ora ti si dovrebbe riaccendere In teoria adesso Se colleghi il grado e tutto Ti dovrebbe andare Basta solo questo? Sì Prova in chiamata Così almeno stiamo tranquilli Ok Dammi un attimo Che devo andare sotto Tutta la roba Arrivo eh Vai tranquillo Vai tranquillo Vai 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 Ah ma Aspetta una cosa Zano Mi hanno detto Di mettere L'Hdmi Che ho trovato dentro la play È vero o è una cazzata? Vero Vero Ah che è più nuovo Ok Sì 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 È meglio Per il 4K Da quello che mi hanno detto Ok Va bene Vero eppure io sto Bello pomerone Cioè io pure Ah ok Collego e arrivo eh Collego e arrivo Vai vai È successo Ora a me così Sì Ciao cavolo Sì No non è il mio numero Ragazzi No non è il mio numero Ragazzi no non è il mio numero Vai Fede vai Fede Vai Fede Ok 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 Ho fatto malissimo il piede Ok Allora Prova del 9 Vai Oh oh Grande Sì Grande Grazie mille Zano Senti che Se ti serve qualcos'altro Dimmi pure Va bene Grazie mille Gentilissimo Ciao 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 Che mito Che numero uno Raga Peppo Love